Buongiorno signora la Sette, è un sondaggio, è un exit poll. Vi conosciamo, vi conosciamo. Ah bene, ci fa tanto piacere sempre. Ma lei mi ha votato. Ma io ho votato certo, come faccia? E per chi ha votato? Ma io sono parte del popolo, io sono popolo. Quindi potere, potere al popolo, sempre. E niente, noi stiamo scoprendo il segreto di Paciano, perché qui il PD ha fatto il 48%. Io ho votato potere al popolo, per cui con me ho capito male. Ma no, già abbiamo...